Thais e Thaynara, sono Eitor, sono vostro fratello e vi sto cercando da una vita. Voglio incontrarvi e raccontarvi tantissime cose e riprendere il tempo perso. Un abbraccio. Mi chiamo Eitor, ho 24 anni e abito qua a Segreta. Sono nato a Minas Gerais in Brasile il 21 aprile del 1997. Allora io ti racconto più o meno la mia storia come me la ricordo. Ho ricordi veramente vaghi della mia vita quando ero piccolino, cioè esempio non ho quella immagine di mio padre o mia madre che magari mi vengono, mi rimboccano le coperte, robe così. Io stavo con questi miei zii insieme alle mie sorelle. Dopo che mia zia ha chiamato le assistenze sociali mi hanno portato in questo istituto. Loro è un istituto per femmine perché lì è così e a me mi hanno portato in istituto solamente per ragazzi. E da quel giorno lì fino ad adesso non le ho più riviste. Una si chiama Thais e una si chiama Thainara. Attualmente io ne ho 24, una dovrebbe essere maggiorenne, quindi potrebbe avere dai 18 ai 19, invece l'altra secondo me è ancora minorenne perché potrebbe essere del 2003-2004. Sono venuto in Italia prima di me, io sono venuto qua il 28 marzo del 2008, secondo me loro sono venuti un anno prima, nel 2007. Ho sempre avuto il desiderio, cavoli, di vedere, non lo so, abbracciarle, chiedere come hanno passato questi anni, cosa hanno fatto dopo che diciamo ci hanno separato. Qualora qualcuno dovesse avere notizie potete contattare fanpage che poi vi mandano a me e poi ci possiamo risentire. Il problema principale è che essendo che io sono stato adottato da una famiglia e loro da un'altra, lo stato brasiliano ti taglia i legami. Che io quando sono stato adottato, loro mi hanno fatto vedere questa fotografia che ritraeva le mie due sorelle e solo che lì per lì non ti potevano dire niente perché essendo che ti tagliano i legami con loro, io, cioè tu non puoi fare assolutamente niente. Cioè di loro poi non ho saputo più niente finché quando mia madre mi ha detto ehi tu guarda che le tue sorelle sono a Verona. E lì diciamo mi si sono illuminati gli occhi, ho detto cavoli io sono a Milano, loro sono a Verona. Il mio appello è che tutte le persone che vedranno questo video, se conoscete due ragazze brasiliane che si chiamano Thais e Thainara, di contattarmi e dimmi guarda abbiamo trovato le tue sorelle. Il mio desiderio è quello di trovarle, avere a fianco e raccontarle tutta la mia vita, a chiedere cosa hanno fatto dopo che ci hanno lasciato perché poi loro hanno vissuto un'altra vita e mi racconteranno quello che hanno fatto loro. Spero veramente con tutto il cuore che qualcuno mi dica guarda ci sono buone possibilità che le ritrovi. Se comunque poi non dovesse succedere così comunque non mi arrendo perché piuttosto vado a Verona e metto i cartelloni fuori e dico guardate io sono il fratello di queste due sorelle. Thais e Thainara sono Eitor, sono vostro fratello e vi sto cercando da una vita. Se qualora dovesse vedere questo video contattate Fanpage che poi vi mandano a me. Voglio incontrarvi e raccontarvi tantissime cose e riprendere il tempo perso. Un abbraccio.